Musica Oggi 12 agosto 2014, a Carini questa mattina si è inaugurata la via Andrea Antonino Farnese Le nostre telecamere erano lì, a voi il servizio Siamo qui con le nostre telecamere del Salotto di Chetti per assistere all'inaugurazione della via Farnese Abbiamo qua il sindaco, vediamo di dire due parole per questa inaugurazione importante Un'inaugurazione per un personaggio assolutamente importante e famoso per la nostra città Andrea Farnese è nato a Carini ed emigrato in America all'età di 13 anni Da quell'età in poi, attraverso gli studi, riuscì a diventare qualcosa di particolare Nel modo di diventare un grande personaggio, ha pensato anche alla nostra città Lui, attraverso i suoi incarichi istituzionali, riuscì a far finanziare diverse opere nella nostra città Di cui una è ancora in vita, che è la casa del fanciullo E che lui, nei sopralluoghi fatti successivamente per vedere quello che era stato realizzato per questi finanziamenti È rimasto onestamente un po' deluso, perché si aspettava molto di più Da lì c'è un momento di allontanamento dalla nostra città, ma subito dopo riuscì a ritornare E quindi a vivere i suoi ultimi momenti nella nostra città, costruendosi anche una casa E avendo anche degli amici Da questo personaggio che la città di Carini ha avuto tanto Era giusto oggi ricordarne questo passaggio istituzionale Intitolando una via, una delle vie più trafficate, più importanti del nostro comprensorio Va ricordato che Andrea Farnese è stato un grande avvocato, un deputato Ha avuto incarichi istituzionali di una certa importanza Quindi secondo me è un personaggio che Carini non poteva dimenticare Che Carini doveva dare un minimo, un passaggio per lasciarlo nella storia Anche perché la casa del fanciullo costruita con i soldi che lui ha mandato Oggi ancora è qui, serve a coloro i quali hanno di bisogno Serve a coloro i quali hanno delle difficoltà E giornalmente ne usufruiscono di questa struttura Quindi era opportuno che questa amministrazione lasciasse questo ricordo Grazie anche agli amici che hanno partecipato Al dottore Mannino, a Vito Conigliaro A questo signore che in questo momento non ricordo il cognome Che è entusiastico di questo personaggio E quindi era un segno tangibile da parte nostra Lasciare questo messaggio Grazie veramente, è una bellissima storia Adesso chi ha voluto veramente questa strada E' stato di questo mannino Vito, dici tu qualcosa Ringrazio innanzitutto il signor Cine Perché accettando di fare una delibera Per recuperare questa ricerca Ha mostrato sicuramente sensibilità Nei confronti di una persona che può essere da esempio per tutti Per tutta una nuova generazione Perché come dicevano i latini è sempre tra un Cioè gli esempi trascinano Essere a contatto e conoscere una persona simile Che ha avuto grandissime incarichi E' stato sicuramente molto ricco Ma che ha vissuto tutti questi suoi incarichi Non come prevedente Ma come prevedente Di dare servizio a tutta l'umanità Perché comunque in tutto il mondo Lui creò delle associazioni umanitarie Ma soprattutto a Carina Poi lui aveva moltissime incarichi Che fu portatore di due grandissime banche La Lincoln National Bank La Winner Bank Che hanno ottenuto Di una mazione svizzera In tutto il mondo E che hanno sovvenzionato Per un terzo l'autostrada del sole E interamente La Messina Catania Non ha voluto neanche interessi Anche se si era riservato per sé A 50 anni fa quasi I pedaggi autostradali Che renderevano tutto il ridicolo Ma anche poi Per il boom automobilistico Che ha avuto in Italia C'è stato il boom economico Quindi lui si è rifatto anche con questo E va bene Però lui pensò soprattutto agli altri Anche nei momenti difficili Perché ne ha avuto tante La perdita di un figlio Ma anche dal punto di vista economico Molte truffe che ha subito Perché era una persona Molto intelligente Ma molto ingenua pure al tempo stesso Perché si fidava di tutti Veramente E molte persone ne approfittavano Ma quanti carinesi Lui fosse dalla galera Perché nonostante fosse Un grandissimo avvocato Ma avvocato anche di Reagan Avvocato di Senato Avvocato di grandissimi uomini Che lo abbocavano profondamente Ma lui molto spesso Si metteva al servizio Gratuitamente Dalla povera gente Quando riteneva Che quello fosse innocente Va bene Magari aveva un ritorno Nei giornali Perché aveva un ritorno Però lui intanto Si promuoveva sempre Spendeva tutte le sue energie Per gli altri Fu lui Padrone Promotore Di una La più grande Scuola di biologia A Boston Poi fu anche Proprietario Di una grandissima Casa di reposo Ma casa di reposo Che c'erano 1500 Anziani Anziani Poi anche per i bambini Che avevo case Adatte per fare svagare i bambini Per dire quanto Questo uomo Che poi fu anche Nella commissione Per il piano Marshall Ambasciatore Presso i passi Arab Insomma Fu anche Cavaliere Di Cancroce Ma ha avuto Un sacco di reposo Che lui L'interessante Che uno deve capire Una cosa Io sono con tutti i miei peccati Sono un grande Credente E penso che ogni cosa Che ricevo da Dio Dio la debbo Le dare Le devo Rispondere E le rispondeva come Con la sua generosità Generosità illimitata Veramente Ora anzi Grazie al sindaco Penso che questa persona Venga conosciuta a Carini Perché Conoscere questa persona Riconoscere Scoprire le radici Le identità Di questo nostro paese Le radici sono Il fondamento Anche per l'economia Per la sovrastruttura E per la struttura Se non si conoscono Queste persone Perché Carini Ha dato E' natale A grandi uomini Ma Vanno nel dimenticatoio E nessuno li conosce Va bene Questi dovrebbero servire Soprattutto anzi Quelle persone Che vengono a Carini Nuove Perché sono venute Da Palermo Da altre città Sono venute a abitare a Carini Però non conoscono Le radici di Carini Non conosco Quale grande uomo Ha avuto questo Uno dei più grandi Italo-americani Che l'Italia Abbia conosciuto E ce ne sono Un sacco di libri Che parlano di lui Va bene Io vi ringrazio Per questa vostra intervista Io dico soltanto Un grande uomo Un grande siciliano Un grande carinese Che ha veramente dato Qualcosa a questo paese Bisogna conoscere I nostri cittadini E i nostri uomini Che hanno avuto Tanto valore Per il nostro benessere Adesso intervistiamo Il signor Rigno Salvatore Importante Italo-americano Che ci darà Qualcosa anche lui Ma io posso dire questo Ho avuto la fortuna Di vivere con Farnese Diciamo Crescendo a Filadelfia Dove è stato Il posto Dove è tuttora Il posto dove io vivo Di conoscere Questo personaggio Carinese Che mi aveva sempre Come dire Entosiasmato Per la sua grandezza Principalmente D'animo Per il modo di fare Molto semplice Ma Molto acuto Rispettato Da tutti Negli Stati Uniti E anche Soprattutto a Filadelfia Oggi dire di essere Di Carini E dire di essere Dello stesso paese Di Farnese A Filadelfia Ci fa veramente Molto onore Grazie a lui Io Ho ricevuto Dei insegnamenti Da parte sua Che mi hanno permesso Poi Come dire Di crescere Anche dal punto di vista Politico E Non per nulla Di essere poi Stato eletto Al Parlamento In Italia Nel 2006 Al 2008 Alla Camera E Di essere stato vicino a lui Fino agli ultimi giorni Appunto della sua vita Mi ha detto questo Lasciando come messaggio Ai miei concittadini Domani Dice magari Fallo sapere tu Agli altri Finché avremo I carinesi onesti Che nel mondo Si distingueranno E faranno sempre grande Il nostro paese Ma soprattutto Di non dimenticare mai Che il nostro paese L'abbiamo avuto In eredità In prestito Dai nostri padri E dobbiamo avere La forza E il coraggio Di lasciare I nostri figli Con quell'insegnamento Di essere Come dire Con quei valori Appunto Nostri carinesi Che non dobbiamo mai Dimenticare Quindi Insegnare sempre Ai nostri figli Di essere orgogliosi Di essere carinesi Questo è un messaggio Che lui Mi ha lasciato Ma che io voglio Condividere Con tutti I nostri concittadini Oggi Che Come dire Carini Non ha Per nulla Dimenticato Questo grande personaggio Signor Due parole Due parole Vedo che lei C'ha la foto Di Farnese La faccia vedere Ma io sto sempre a fianco Ah è un amico Un amico Di Farnese Che dormeva A casa sua L'unico che dormeva A casa sua Era io Ma anche i suoi figli Lei come si chiama? Vito Conigliaro Da carini Vito Conigliaro Di carini E lui Quando faceva la riunione Era orgoglioso Di dire Che era di carini Cioè Quindi Siamo noi Puro orgogliosi E Pensare sempre Per l'avvocato Farnese Che era Come si dice Un grande uomo Che aveva sempre Considerazione Per i malati Per i bambini Mia mamma Aveva i soldi Mi aveva i soldi E io ci portavo Le feste E i bambini Le portavo a girare E lui era Su rispatto Se non la robavano Un grande Italo americano Un grande Carinese Ricordiamo così Farnese Un abbraccio A tutti voi Signori e signori Arrivederci Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.